Di un olivo 2.0 ha parlato il senatore Roberto Ruta che unitamente ad altri esponenti dei partiti della sinistra ha lanciato il manifesto di un ricompattamento delle forze che dettero vita all'esperienza prodiana questa volta in chiave regionale e stamane la conferenza stampa, ascoltiamo Dobbiamo puntare a ricostruire un centro-sinistra reale e produttivo un olivo 2.0 capace di restituire forza le idee e i valori del popolo del centro-sinistra Così il senatore Roberto Ruta, questa volta sostenuto da Vincenzo Notarangelo segretario di sinistra italiana, Danilo Leva del Movimento Articolo 1 di Nicola Macoretta dei comunisti italiani, di Ivan Perriera dell'Italia dei Valori e di Michele Durante dell'area che fa capo a Pippo Civati Tutti all'unisono hanno manifestato disappunto per quella che hanno definito la deriva del centro-sinistra in regione che avrebbe perso la strada sui punti cardine del programma che tanto entusiasmo aveva determinato nell'elettorato a partire dalla sanità che hanno ribadito deve restare pubblica per questo hanno puntato il dito contro la decisione della regione di inserire il piano operativo nella manovra finanziaria del governo Così facendo hanno ribadito, hanno privato dell'autonomia lo stesso Consiglio regionale e i cittadini molisani Ora per modificare qualunque passaggio per pensare ad un nuovo disegno della sanità sul territorio occorrerà farlo con legge Un punto questo che per gli esponenti politici presenti sul palco della conferenza stampa deve essere uno dei punti qualificanti della nuova strategia del centro-sinistra Oggi abbiamo deluso le aspettative, ha detto Danilo Leva e dobbiamo prendere atto degli errori fatti e presentare un nuovo quadro che parta dalla sanità e tocchi i temi del lavoro e degli investimenti pubblici Oggi è un punto di partenza dal quale avviare il percorso di costruzione del nuovo centro-sinistra Di governo regionale autoreferenziale ha parlato Nicola Macoretta dei comunisti italiani e ha chiesto al Partito Democratico di dire se intenda o meno governare con la sinistra Stesso concetto espresso dal segretario di sinistra italiana Vincenzo Notarangelo Per il senatore Roberto Ruta oggi si apre una nuova storia perché il popolo del centro-sinistra ha detto a chiedercelo per riportare in campo i valori, le idee e le passioni che dettero vita a stagioni esaltanti della vita politica di quest'area Saranno 5 i punti sui quali far poggiare il programma, questa la sindesi di Ruta che saranno portati all'attenzione dei cittadini molisani nel prossimo mese di settembre in 10 piazze regionali Intendiamo riportare sulla scena politica, chiuso Ruta una forza serena e tranquilla capace di affrontare i veri problemi dei cittadini molisani e trovare le opportune soluzioni Chi sarà il possibile candidato a presidente? Ruta ha smarcato tutti, noi ci auto-escludiamo Ruta ha smarcato tutti, noi ci auto-escludiamo